Un saluto dal Tg della Mobilità e varchi delle ZTL diurne e notturne di Centro, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo resteranno disattivati H24 per tutti i giorni della settimana sino al 15 gennaio. Sono invece regolarmente in vigore i provvedimenti antismog, lavori per la sostituzione di 48 impianti tra scale mobili e ascensori nella metro B. Dal 29 novembre dopo quella di Castro Pretorio è chiusa ai viaggiatori anche la stazione Policlinico per contenere i disagi dei viaggiatori per tutto il periodo della chiusura della stazione Atac ha già attivato la linea di bus MB20 Termini Tiburtina, confermate alla stazione Castro Pretorio e nei pressi della stazione Policlinico in via Giovambattista Morgagni, angolo Viale Regina Margherita. E' tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.